Ciao! Qualche consiglio pratico per la riduzione del rumore con Lightroom e Topaz The Noise ed eventualmente anche con DxO Pure Raw. Facciamo la telecamera piccolina. Questa è un'immagine, una foto che ho scattato recentemente a 2500 ISO in una sensazione con veramente scarsa luce, quindi è anche sottoesposta, il rumore è evidente. La foto al 100% è così, però sicuramente voglio effettuare un ritaglio più ampio dell'immagine per isolare meglio il soggetto. In questo caso mi rendo subito conto che il rumore è notevole. Lightroom inizialmente mi dà alcune impostazioni di base, sia dello sharpening sia della riduzione del rumore. Queste impostazioni di base appunto funzionano generalmente male, funzionano giusto come base di partenza, però normalmente bisogna applicare diverse impostazioni. Comunque questa è una foto che si vede già che è parecchio rumorosa, in più ho intenzione di ritagliarla, quindi il rumore si vedrebbe ancora maggiormente. Quindi ho deciso di elaborare la foto con Topaz The Noise e poi ripetere l'operazione anche con Dix oppure Raw. Versione 2 o 3. Topaz The Noise non ho l'ultimissima versione, ho una versione mi pare 2.5 perché ho avuto un problema di aggiornamento sul computer. Se voi avete una versione più recente quindi potreste avere delle opzioni diverse, però vi faccio notare subito questo aspetto importantissimo secondo me. Lightroom applica alcune impostazioni, poi io potrei voler applicare altre impostazioni come per esempio un crop dell'immagine abbastanza forte, come questo per esempio, in più potrei voler cambiare un po' il bilanciamento del bianco e poi magari voglio aumentare un pochino il contrasto nell'immagine, niente di eccezionale, però ecco che già facendo due o tre piccoli aggiustamenti riesco a rendermi conto che la foto mi piace particolarmente e quindi voglio completare lo sviluppo, completare lo sviluppo che passa necessariamente per la pulizia del rumore. Perché ho applicato alcuni aggiustamenti subito? Ho applicato alcuni aggiustamenti subito perché questo è il mio workflow, il mio modo di lavorare. Voi potreste avere un flusso di lavoro completamente diverso, quindi questo è diciamo il mio modo di operare su queste foto, che non è necessariamente il più corretto, il più giusto. Voi potreste avere altri metodi che funzionano meglio per le vostre fotografie o per il vostro modo di fotografare. In ogni caso, questo è il consiglio numero uno che vi voglio dare. Se utilizzate Topaz The Noise, state attenti ai valori iniziali di Sharpening e Noise Reduction che Lightroom vi impone. Perché quando andrò a lavorare la foto, avrò questa opzione Edit con Topaz The Noise, Topaz The Noise mi chiederà se voglio modificare la foto con gli aggiustamenti di Lightroom. Ci sono altre due opzioni, ma in questa versione con i file RAW della OM1, Topaz The Noise non è in grado di crearmi una copia al volo del file originale. Quindi partirà dal file modificato in Lightroom. Sempre file RAW, però comunque partirà dalle impostazioni che ho già. Questo è un problema perché Topaz The Noise andrà a fare una pulizia del rumore ed un'evidenzazione dei dettagli, basata però su una foto che ha già una serie di parametri modificati da Lightroom. Quindi abbasso lo Sharpening e abbasso il Noise Reduction. Con Topaz The Noise ho notato che però il Noise Reduction sul colore, non solo la luminanza, ma quello sul colore, è meglio lasciarlo attivo. Mi sono reso conto che lavora meglio in questo modo, quindi lascio che Lightroom faccia la riduzione del rumore sul colore, che è questo qui. E' quello che maggiormente si vede, non ve lo ingradisco ancora maggiormente, è questo rumore di colore. Lightroom me lo dava di base da 20 e io parto da qui. Quindi la riduzione del colore la lascio attiva, la riduzione della luminanza la porto a 0 e lo Sharp ne lo porto a 0. Adesso a questo punto faccio Edit con Topaz The Noise e seleziono Edit con una copia con gli aggiustamenti di Lightroom. Questo mi creerà in Topaz The Noise un nuovo file TIF. Per brevità lascio le impostazioni base, non sto a fare delle modifiche troppo esagerate, facciamo leggerissime modifiche, giusto per chiudere il discorso. Adesso ovviamente Topaz The Noise richiede un po' di tempo. Finita l'esecuzione, dentro Lightroom troverò un nuovo file che se guardate il nome del file è un file TIF. Vediamo di... Ecco, il nome del file è un file TIF. Quindi Topaz The Noise mi crea un file TIF partendo dalle impostazioni originali che avevo. Quindi la foto è ritagliata. Nell'originale se voglio cambiare l'inquadratura in Lightroom ho sempre le opzioni di ritaglio abilitate. Ma nella versione di Topaz The Noise questo non è vero perché Topaz The Noise è partito dal file con gli aggiustamenti. Quindi se voi vi rendete conto che il ritaglio dell'immagine non è corretto dopo che avete iniziato... avete fatto il passaggio su Topaz The Noise dovete rifarlo. Quindi un ulteriore consiglio che mi sento di dare è dopo aver eseguito il ritaglio disattivarlo e rifare l'operazione su Topaz The Noise così facendo avrete un file da tutta dimensione su cui effettuare il ritaglio. Ovviamente il file è più grande l'immagine contiene più pixel quindi anche Topaz The Noise richiederà più tempo per eseguire. Questa è una scelta che insomma sta a voi. Molte volte io eseguo l'operazione con Topaz The Noise dopo aver effettuato il ritaglio perché per me effettuare il ritaglio è molto importante proprio per capire se se la foto mi piace. Ecco in questo caso Topaz The Noise mi si è addirittura bloccato ho qualche problema sul mio computer con questa versione e ho avuto anche problemi negli aggiornamenti quindi il discorso comunque rimane valido se eseguite Topaz The Noise su un'immagine già ritagliata poi non potrete allargare l'inquadratura se invece lo eseguite su un'immagine a tutta dimensione avrete la stessa possibilità che avevate sul file originale quindi di ripristinare di cambiare l'inquadratura ecco vediamo un po', ritorniamo sul file originale nelle impostazioni nel pannello di sinistra ho la possibilità di tornare indietro nelle opzioni ecco che a questo punto il file originale ha questa dimensione il file con Topaz The Noise però adesso è il nuovo file quello che ho eseguito con l'immagine a tutta dimensione senza ritaglio mentre invece precedentemente avevo una versione di Topaz The Noise dell'immagine elaborata con Topaz The Noise invece già ritagliata quindi queste sono le due immagini i risultati sono pressoché identici però una è ritagliata e una è a tutta risoluzione ora io posso anche fare una cosa interessante siccome nell'immagine originale avevo il ritaglio predisposto posso semplicemente selezionare le due immagini quella originale e quella con Topaz The Noise dire di sincronizzare e di sincronizzare il ritaglio in questo modo la nuova foto fatta con Topaz The Noise questa qua risulterà col ritaglio come la volevo dall'originale questo mi permette di avere il file comunque modificabile quindi se decido di modificare il ritaglio posso farlo anche sulla foto già elaborata con Topaz The Noise quindi il flusso di lavoro con Topaz The Noise è secondo me un po' beh a vostra discrezione ovviamente fate come vi pare non vi dico io certamente cosa dovete fare vi dico cosa potete fare quello che potete fare è elaborare con Topaz The Noise su un file diciamo originale senza modifiche perché se lo fate sul file già modificato poi non potete tornare indietro quindi ricapitolando la cosa più importante se volete lavorare con Topaz The Noise è azzerare i valori di sharpening e di noise reduction che vi applica Lightroom valori più o meno standard a seconda delle vostre impostazioni che io a volte sprocchio un po' modifico un po' e poi mi rendo conto che non è sufficiente utilizzare il noise reduction di Lightroom ma devo passare per un plugin ulteriore come Topaz The Noise o Pure Raw ecco allora quindi ricapitolando stavo dicendo azzerate i valori di sharpening e di noise reduction prima di lavorare con Topaz The Noise lasciate il riduzione del colore attivo di Lightroom prima di passare Topaz The Noise e l'ulteriore consiglio è azzerate almeno il ritaglio se come me fate un uso del ritaglio per cambiare la composizione dell'immagine per me è molto importante perché io faccio principalmente avifauna e nel mio caso devo scattare in fretta e molto spesso i soggetti sono anche lontani quindi per me il ritaglio è una componente molto importante della fotografia come anche il bilanciamento del bianco perché è molto facile che il bilanciamento del bianco non sia perfetto con il bilanciamento automatico intendo io però mi sono reso conto che meno modifiche do in pasto a Topaz The Noise migliore il risultato che ottengo quindi però normalmente io parto sempre con qualche piccola modifica in Lightroom per rendermi conto se la foto funziona perché Topaz The Noise comunque ha dei tempi di elaborazione abbastanza lunghi e anche più raw ha dei tempi di elaborazione abbastanza lunghi non lunghissimi però se io dovessi fare questa operazione di passare con Topaz The Noise in anticipo su tutte le foto prima ancora di aver deciso se la foto mi piace richiederebbe veramente troppo tempo quindi la mia scelta nel mio flusso di lavoro è identifico le foto che mi piacciono potete vedere già qui che ho messo dei dei marcatori sulle foto che considero buone le identifico già al primo al primo al primo sguardo quelle che sono che ritengo più buone poi però da una foto diciamo venuta bene ad una foto buona una foto che abbia abbia un buon risultato finale ce ne passa quindi molte volte prima di poter dire questa è una foto che voglio pubblicare devo iniziare a operare il bilanciamento del banco ritaglio a modificare il contrasto i colori devo fare un po' di lavoro sulla foto per svilupparla o meglio voglio farlo perché per me è molto interessante mi piace è un aspetto della fotografia che a me piace molto e dedico parecchia attenzione a questo aspetto quindi il discorso che voglio dire è questo per me per dire se una foto funziona devo fare un po' di elaborazioni prima di poter decidere se realmente questa foto merita quindi io faccio normalmente un po' di elaborazioni dopo che ho fatto queste elaborazioni dico ok questa foto secondo me funziona però contiene troppo rumore quindi la devo dare in passo ad un plugin alternativo come top as the noise o pure raw della dixo però a questo punto sulla foto ho già applicato tutta una serie di modifiche cosa faccio? faccio questo lavoro adesso molto velocemente faccio qualche veloce modifico su questa foto per far vedere quanto è diversa dall'originale vediamo un po' di cambiare qualche impostazione al vulissimo ecco facciamo finta che questa foto anzi questa foto fatta così possa essere per me una buona foto diciamo un buon punto di partenza a questo punto non voglio perdere tutte le impostazioni le modifiche che ho fatto in questo caso lo fate molto in fretta però potrei anche averci lavorato magari una mezz'oretta su una foto prima di farla di volerla passare su più raw o top as the noise quindi a questo punto faccio questo qui tasto destro crea una copia virtuale ho una copia virtuale adesso praticamente è la stessa la stessa immagine con tutte le impostazioni di prima questa copia virtuale posso resettarla completamente a mano devo anche resettare lo sharpening perché purtroppo quando faccio il reset lo sharpening rimane attivo il noise reduction la riduzione del colore di base lightroom me la dà 25 la posso lasciare anche 25 e a questo punto su questa foto base applico top as the noise o più raw però ho una copia con le modifiche come la voglio io quindi adesso da questa foto modificata io posso darla in passo a top as the noise lui farà tutte le sue elaborazioni dopodiché otterrò una foto più o meno vediamo un po' se ce l'ho già pronta volevo evitare di doverla fare da capo ecco questa è la foto ottenuta con top as the noise questa è la foto originale come vedete c'è una lieve anche modifica dei dei colori ah no ecco 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 qui c'è uno sbaglio non c'è una modifica dei colori fra le due foto ma la foto elaborata a top as the noise era già è stato effettuato questa modifica su una foto a cui avevo già modificato la luminosità quindi se voglio ritornare all'originale devo prendere il file originale di cui avevo fatto una copia e rifare l'operazione di prima di lavorare con top as the noise quindi questo io lo trovo abbastanza frustrante perché se sbaglio un passaggio sono costretto diciamo a ripartire adesso non ho voglia di perdere troppo tempo con le impostazioni applico i valori di base di top as the noise giusto per continuare il discorso quindi ricapitando per la terza volta il ricapitolone il mio consiglio è applicate le impostazioni base alla foto abbassate lo sharp abbassate la riduzione del rumore applicate top as the noise dopodiché riapplicate sulla foto pulita i valori e le impostazioni che avevate fatto originalmente con Lightroom c'è questa possibilità di sincronizzare una foto con l'altra basta selezionarla prima e poi quella da cui volete partire e la seconda quella elaborata con top as the noise e cliccare su sincronizza posso selezionare tutto vi consiglio di non selezionare i dettagli sharpening luminosità e riduzione di rumore perché queste impostazioni è meglio adesso lasciarle a zero adesso questa è la foto vediamo un po' questa è la foto elaborata con top as the noise a cui ho applicato tutte le impostazioni di prima vediamo se ho fatto bene no ho sbagliato sono partito dalla foto originale sbagliata la foto originale giusta è questa quindi devo fare così e sincronizzare sincronizzare è una questione di veramente pochissimo quando effetto la sincronizzazione però spesso il bilanciamento del bianco va a farsi friggere perché la foto originale mi tiene la temperatura e la tinta ma la foto elaborata con top as the noise siccome è un tiff non è più un raw ha dei valori più o meno quindi devo impostarli a zero manualmente è una cosa un po' noiosa ecco però purtroppo succede anche questo aspetto qui quindi come vedete la riduzione del rumore è abbastanza efficace i colori i bianchi è tutto un pochino sfalsato perché la riduzione del rumore ha comunque modificato abbastanza l'immagine la ingrandisco giusto per vedere questa è l'immagine con top as the noise questa è l'immagine originale possiamo anche vederle affiancate ecco a sinistra ho l'immagine originale a destra ho l'immagine con top as the noise eventualmente una volta elaborata la foto con top as the noise dovrò riapplicare altri aggiustamenti perché appunto i colori sono leggermente diversi e anche i bianchi sono leggermente diversi quindi bisogna un attimino rifare un po' di fine tuning come dicono gli inglesi sulla foto finale quindi è questo anche il discorso se comunque dovete rifare delle altre elaborazioni alla fine sul file che è stato modificato con top as the noise allora a quel punto non vi conviene perdere troppo tempo sul file originale e io per me è questo il discorso io faccio le modifiche sul file originale solo per vedere che il file originale funzioni fotograficamente parlando una volta che ho deciso questo elaboro con top as the noise e ripeto tutte le modifiche da capo diciamo utilizzando la sincronizzazione come vi ho fatto vedere per velocizzare ma poi comunque andrò a fare qualche altro qualche altra modifica perché la foto secondo me non è non è comunque ok ok del tutto ecco quindi magari voglio ricalibrare leggermente il bianco oppure mi rendo conto che la luminosità qui è un po' troppo sparata quindi rifarò un po' di di modifiche posso anche rendere conto adesso che il rumore è stato pulito che posso schiarire un pochino meglio la foto e magari aumentare il contrasto e queste qui sono piccole modifiche però sul file originale con tutto il rumore che avevo queste modifiche non rendevano bene perché veniva fuori si evidenziava troppo rumore questo è diciamo il mio modo di lavorare con Topaz The Noise recentemente sono passato però all'utilizzo di DxO più Raw nella versione 2 e pochi giorni o settimane fa è uscita la versione 3 anche con DxO il mio modo di lavorare è leggermente diverso perché DxO praticamente quando faccio DxO la foto parte sempre dalla foto originale e mi farà sempre una foto originale e scusate mi partirà sempre dalla foto originale mentre invece Topaz The Noise non ce la faceva quindi a questo punto io dico adxO versione 2 fa quello che vuoi diciamo non mi curo neanche troppo dei dettagli mi genera un nuovo file ci mette un pochino non mi fa vedere nessun anteprima perché praticamente i parametri di modifica me li aveva fatti vedere velocemente me li aveva fatti solo descritti nel pannellino di poco fa una noia di DxO è che mi crea una nuova categoria una nuova raccolta e dopodiché non mi fa più vedere il file originale quindi devo fare tasto destro vai nella cartella originale ed ecco qui il file modificato da DxO che non ha tenuto conto di nessuna delle modifiche che ho applicato io quindi con DxO ho diciamo un flusso di lavoro più veloce perché tutte le modifiche che io ho applicato verranno scartate dal programma DxO non se ne cura quindi non devo preoccuparmi di andare a zerare lo sharpening andare a zerare il noise reduction e anche il ritaglio vedete io sono partito da questa foto qua e ho detto elaborala con DxO più raw versione 2 e lui mi ha creato un file che contiene aspettate ho sbagliato qual è il file questo qua si mi ha creato un file che è pari all'immagine come era prima che la ritagliassi prima che la modificassi in più DxO rispetto a top as the noise non fa un tiff ma fa un dng e il dng mi mantiene il valore della temperatura di colore la cosa interessante però con DxO è che DxO mi altera il bilanciamento del bianco abbastanza e quindi mi trovo spesso a dover litigare un po' col bilanciamento del bianco dopo che ho elaborato con DxO però il fatto che DxO mi parte da un file originale crudo diciamo senza le mie modifiche mi permette di ripartire da capo il problema che ho con DxO è che appunto mi modifica abbastanza il bilanciamento del bianco mi fa anche delle altre modifiche sulla correzione geometrica dell'ottica che però disabilito sempre e quindi se io adesso sincronizzerò come ho fatto prima la foto originale con quella elaborata da da DxO scusate ho troppi ho troppe foto adesso e non riesco a capire quale ho modificato ok ho trovato adesso sincronizzo seleziono di nuovo tutto ancora questa volta lascio dettagli disattivati poi vi spiegherò meglio perché a questo punto vado sulla foto elaborata con DxO e ve la faccio rivedere l'originale con quella modificata ad azione allora l'originale con quella modificata con DxO togliamo i pannelli laterali abbassiamo anche questo qua ecco al di là del rumore ci si rende subito conto che nonostante io abbia sincronizzato tutti i parametri anche in questo caso la foto di DxO è parecchio diversa dalla foto originale specialmente nel bilanciamento del bianco ho notato che questo è molto più diverso dalla foto originale rispetto a Topaz The Noise quindi Topaz The Noise mi dà un bilanciamento del bianco più simile alla foto originale mentre DxO più raw mi dà un bilanciamento del bianco che spesso è molto diverso dalla foto originale nonostante i numeri siano visibili qui la foto originale allora vediamo un po' la foto originale che è questa qua mettiamo la foto singola ha valori 4749 più 16 se vado su la foto con elaborata dalla DxO per gli stessi numeri ho un colore diverso ho un colore diverso e ci può cosa fare rimetto questa visuale a questo punto se voglio cercare di ottenere più o meno gli stessi colori dovrò alterare manualmente il bilanciamento del bianco questa è una cosa che come ho fatto vedere prima comunque anche con topaz the noise più o meno lo faccio però con DxO mi trovo leggermente peggio da questo punto di vista una cosa che è interessante da sapere è che appunto DxO applica secondo me un migliore da un migliore risultato rispetto a topaz the noise io però la versione 2.5 di topaz the noise non l'ultimissima mentre mentre DxO più ho provato sia la 2 che la 3 e con la 2 mi trovo meglio rispetto alla 3 comunque il risultato è che topaz the noise scusate DxO mi dà un risultato secondo me migliore però il bilanciamento del bianco mi fa impassire un po' di più spesso poi dopo aver fatto il passaggio con DxO posso decidere se applicare un ulteriore leggerissimo sharpening ma leggero perché dopo se si esagera l'immagine viene troppo troppo carica il il i dettagli sono esagerati e si vede troppa artificiosità ecco a questo punto posso esportare le varie immagini che ho comprese quelle create con top of the noise esporta una volta effettuato il risultato abbiamo qui gli esempi ecco qua allora questa è l'immagine originale jpeg esportato originale come come è veramente evidente c'è molto rumore questa è la versione con dixo e questa è la versione con top of the noise la versione con top of the noise devo mettere non ho elaborato tanti i valori si potrebbe fare qualche altro qualche altra impostazione però vi faccio notare come fra top of the noise e dixo c'è anche un'alterazione della geometria della foto questa nonostante io su dixo abbia deselezionato questa opzione dixo comunque applica un leggero una leggera modifica anzi forse forse mi sbaglio non è dixo applicare l'ulteriore modifica ma è il profilo di correzione all'interno di lightroom vediamo un po' si è la correzione di lightroom ecco adesso l'ho disattivata su tutte e tre le foto però comunque noto una leggera correzione della della geometria in ogni caso quindi questa è una cosa che un po' mi dà fastidio di dixo però vabbè pazienza e la modifica è leggermente minimale si nota soltanto se passiamo dalla foto originale alla foto modificata ah ecco no 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 mi sono confuso in questo caso disattivando la correzione sia in lightroom che con dixo la foto originale e la foto di modificata con dixo più raw è uguale adesso infatti passo fra questa e questa si sono perfettamente uguali come dicevo prima con dixo ho applicato comunque alla fine un leggero sharpening invece in top as the noise no lo vado ad applicare più o meno gli stessi valori più o meno ecco vediamo un po' dixo comunque mi restituisce in generale sempre un risultato migliore anche come sharpening anche se come dicevo non voglio esagerare perché la foto risulta troppo artificiosa se esagero dopo aver effettuato già uno sharpening con dixo non è necessario effettuare un ulteriore sharpening in certi ambiti mi piace farlo però sto attento a non esagerare con top as the noise il risultato non mi convince al 100% potrei ripetere tutto il processo con top as the noise nella finestra di top as the noise ho la possibilità di selezionare tutti i parametri però ecco che la cosa mi inizia a diventare un po' fastidiosa perché praticamente i parametri che vengono applicati da top as the noise non funzionavano bene e devo cancellare la foto modificata e rifarla per me questo è troppo noioso invece con un dx ho la possibilità di avere subito già un ottimo risultato con i parametri di base quindi preferisco utilizzare dxo posso anche dirvi che ho testato la versione 3d dxo e la versione 3d dxo ha secondo me un difetto fatemi riselezionare la foto originale la foto originale questa qui faccio e modifica in più raw versione 3 la versione 3 ha un'opzione ulteriore di riduzione del rumore che però oltre a tenere oltre a necessitare di più tempo per essere eseguita mi crea un banding molto importante un banding cioè si creano delle delle strisciature del dei sul colore specialmente sullo sfondo che è veramente molto molto brutto il tempo è stimato circa di 24 secondi anche in questo caso lascio tutto standard e mi crea un dng inizia il processo avevo già fatto avevo già un nome simile quindi dxo con la versione più avanzata la versione 3 ha un'opzione rispetto alla 2 migliore ancora sulla risoluzione del rumore che però a me non piace mi crea sugli sfondi specialmente sugli sfondi che sono nervosi che hanno quindi dove ci sono dell'erba dei rami quindi non sono non sono belli omogeni questa versione di dxo mi causa un effetto di banding si chiama così in inglese non so non saprei neanche come tradurlo in italiano e quindi secondo me fra le varie fra le varie versioni di software la versione 2 di dxo è quella che funziona meglio ecco vediamo questa è l'immagine elaborata con dxo versione 3 con l'opzione migliore il prime xd si chiama dip prime xd complimenti a dxo per la scelta dei nomi vedete ci sono dei punti dove questo questo colore è strano non è perfettamente omogeneo si creano sembra molto artificiale sembra esserci del non so del viola misto ad altri colori una cosa piuttosto noiosa non mi piace per niente vediamo se riesco a farvelo notare ecco qui ecco aumento il massimo il viola creato con la versione 3 di dxo vediamo la versione 2 la versione 2 è questa qua dico bene sembra essere questa qui se non sbaglio si nella versione 2 sviluppo togliamo sì anche nella versione 2 ci sono c'è questo questo effetto di banding più o meno dobbiamo resettare tutti i valori originali beh no non proprio più o meno ci sono anche qui però li noto di meno non so forse è un effetto vediamo un po' questa qui con questa qui con allora perché mi hai scelto ecco vediamo un po' giusto giusto per evidenziare questo viola questi ovviamente ho modificato io il viola nei vari tipi di colore ma solo per far vedere come i due software modificano in maniera diversa certi colori nella foto ecco e in certe foto ho notato una grossa differente in questo caso nell'immagine di sinistra oppala nell'immagine di sinistra abbiamo il D' XT cioè la versione più potente data in DX oppure versione 3 nella nell'immagine di destra invece ho la versione 2 di pure e come vedete giusto da questa evidenzazione dei viola dei violetti l'elaborazione è diversa è decisamente diversa questo è solo un esempio quello dei violetti per notare come l'elaborazione sia diversa che succede qua perché non mi fa mi è impazzito faccio spesso questo 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 test aumentando un colore per rendermi conto se lo sfondo è abbastanza omogeneo oppure oppure no ecco per esempio è solo un test non non lascerò la foto finale con queste modifiche ovviamente però voglio cercare di capire un attimino come qual è il risultato dello sfondo dopodichè resetto tutto perché ovviamente non serve non serve nella foto finale però eventualmente posso anche decidere di abbassare un attimino il violetto e il magenta giusto per magari anche il rosso giusto per abbassare questo effetto un po' strano però vabbè questo è un dettaglio molto fine e state molto attenti a queste modifiche perché magari non vi ho rettato conto magari uno di questi colori era nel soggetto principale per cui avete perso un colore poi nell'immagine quindi il risultato finale è questo con top of the noise ricordatevi che parte dalla foto già modificata e quindi potreste avere problemi invece con gli altri software con Dix non avete problemi mi sono dilungato pure troppo e vi saluto ciao